Un'iniziativa, un progetto che si realizza è quello di una guida, una guida veloce, una guida per tutti, destinata al mondo del volontariato e dello sport. Era necessario, era strana che non c'era ancora pronto, una guida dove dà un'indicazione a tutte le associazioni della provincia di Salerno, che si interessano diversamente abili, di come possono accedere nelle strutture sportive, scegliendo anche una tipologia di sport più adatta ai propri ragazzi. Voglio ringraziare l'ente proponente di questo progetto guida, che è l'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, il Vira Rizzo, il nostro presidente, il Comitato Italiano Paralimpico, nella persona di Carmine Mellone, che ha patrocinato questa iniziativa, di Sodalis, che è il sodalizio per i servizi del volontariato della provincia di Salerno, e insieme si è realizzata questa guida, che mancava effettivamente. È un opuscolo informativo che contiene anche delle schede che sono state raccolte durante un'attività di ricerca sulla città di Salerno, ma che hanno visto anche la provincia di Salerno impegnata in questo fruttoso lavoro. Sì, noi diciamo che partiamo dall'idea che lo sport è benessere, sport è salute, sport è vita. Se noi siamo convinti di queste tre dichiarazioni, noi dobbiamo essere anche convinti che c'è bisogno di una maggiore attenzione. Dottoressa, guardi che lo sport è uno strumento straordinario per chi ha difficoltà, chi vive una situazione di difficoltà, ma parlo anche dei minori a rischio, parlo anche degli anziani. Lo sport è uno strumento fondamentale e indispensabile per l'integrazione e l'inserimento sociale. Noi dobbiamo valorizzare un po' di più lo sport, perché poi la pratica sportiva, pensate soltanto alle fasce adulte, ai cosiddetti anziani, ha veramente un costo bassissimo, quasi irrisorio per le casse dello Stato italiano, rispetto a questo eccessivo intervento della sanità a tutti i costi. Ecco, il volontariato che si lega allo sport, questo è anche un suo tema portante di questi mesi. Io penso che se noi facciamo un ragionamento a 360 gradi sull'utilizzo dello sport, allora incominciamo a pensare, per esempio, nel rapporto con gli animali, la pet therapy, l'ippoterapia, pensiamo al basket in carrozzina, ma anche al tiro con l'arco in carrozzina. Penso alla Linus e penso al calcio a 5, al nuoto, al basket. Penso a Gerardo, Gerry per tutti, che è un sollevatore di pesi. Abbiamo tantissime bellissime esperienze, un cavallo per amico, che sono nella provincia di Salerno. Il problema è che molte associazioni e centri di riabilitazione non sanno neanche dell'esistenza di queste strutture. Quindi questa guida va in questo senso, informare tutti coloro che si interessano di Endica, che esiste la possibilità di fare sport a quasi costo zero. Come verrà diffusa sul territorio? Allora verrà diffusa sia per via postale, dove noi invieremo questo puscolo che lei ha tra le mani, e poi lo manderemo via mail a tutte le associazioni scritte all'albo regionale del volontariato. I campioni parolimpici ci insegnano che non ci sono barriere che fermano la forza di volontà. Le uniche barriere oggi, 2020, sono quelle culturali. Non ci sono altre barriere. Grazie a tutti.